Un progetto che mette insieme politiche sociali, politiche per il lavoro, formazione e sviluppo dell'imprenditoria locale. Si chiama Io Lavoro to Push Up Talents per lo sviluppo locale, l'iniziativa del Comune di Bisceglie e non solo risultata, vincitore dell'avviso pubblico comunemente giovane. Alessandra Tursilli. Formazione e avviamento al lavoro per 40 giovani diversamente abili che grazie al progetto Io Lavoro to Push Up Talent del Comune di Bisceglie con partner del progetto una serie di associazioni culturali potranno non solo diventare imprenditori anche di se stessi ma qualificarsi per poter entrare nel mondo del lavoro. Gli ambiti, quello del settore sociale, culturale e del turismo sociale. Verranno attivati tre percorsi di apprendimento on the job, quindi sul lavoro per quanto riguarda i settori del restauro della pietra e del legno piuttosto che audiovisivi e multimediali. Agricoltura sociale e percorso sull'autoimprenditoria. Questi quattro percorsi in realtà saranno finalizzati a selezionare nella fase finale quella che sarà la squadra e quindi i talenti che via via emergeranno per avviare un'impresa sociale. Poi verrà definito via via, verrà valutata qual è la forma più opportuna per avviare questa start-up che ricadrà nell'ambito del turismo sociale con una serie di elementi di innovazione che verranno puntualizzati in corso d'opera. Solidarietà è anche con un contributo che non ricade sul bilancio comunale di 80.000 euro di un bando del lanci nazionale quindi ritengo che avviare al lavoro 40 ragazzi diversamente abili in un progetto così bello, complesso, complicato ma anche qualificante per loro e per le loro famiglie è una circostanza che rende edificante l'azione dell'amministrazione comunale di Biceglie. Penso che sia la strada giusta per coniugare lo sviluppo e la solidarietà, l'avviamento al lavoro dei giovani con un concetto di uguaglianza sostanziale che viene sancito nella nostra Costituzione ma che molti enti locali hanno difficoltà ad attuare in modo concreto. È un progetto che sarà prima di formazione e poi di avviamento al lavoro e poi i ragazzi potranno costituire una vera e propria impresa e lavorare come imprenditori in modo attivo quindi immaginate che è bello per loro non soltanto qualificarsi in senso professionale ma addirittura lavorare emancipati da qualsiasi vincolo di subordinazione. Ma è un progetto di avviamento che troverà anche un riscontro pratico e operativo e un interesse generale dell'amministrazione comunale perché si realizzeranno anche lavori importanti per la nostra comunità.